Come si è venuto da un anno estremamente difficile? Veniamo da un anno estremamente difficile. Una pandemia ha sconvolto le nostre vite e cambiato le nostre abitudini. Ma anche il nostro sport è stato interessato da tanti cambiamenti che hanno imposto delle scelte durissime, specialmente per un team come il nostro che ha terreno da recuperare. Quando abbiamo affrontato il progetto della SF21 abbiamo da subito dovuto scegliere in quale area della macchina dedicare le nostre attenzioni per un cambio più radicale. Abbiamo scelto la parte posteriore, realizzando un nuovo cambio e delle nuove sospensioni. Questo, in aggiunta al lavoro svolto insieme ai colleghi della Power Unit, ha permesso di ottenere un retrotreno molto più rastremato di quello della SF1000. Anche il sistema di raffreddamento è stato oggetto delle nostre attenzioni. Abbiamo aumentato l'autorità del radiatore centrale, e disegnato un bodywork più downwashing. L'aerodinamica è stata una di quelle aree impattate dalle modifiche regolamentari, volte a ridurre la capacità di sviluppare carico verticale, a salvaguardia dell'integrità dei pneumatici. Per questo motivo, quando abbiamo cominciato lo sviluppo aerodinamico della vettura, ci siamo dati due obiettivi. Aumentare il carico aerodinamico perso con i regolamenti da una parte, e dall'altra ridurre il drag, ciò che l'efficienza è stato uno dei talloni di Achille della SF1000. La parte anteriore della vettura ha ricevuto interventi meno radicali per via del regolamento, quindi abbiamo sviluppato una nuova l'anteriore, che lavora in accoppiamento con un naso di nuovo concetto, ma telaio e sospensioni sono quella dell'SF1000. In questo compartimento abbiamo lavorato sui settaggi disponibili per poter meglio adattare poi in pista la vettura ai nuovi pneumatici Pirelli che verranno utilizzati in questa stagione. Tra tutti i cambiamenti regolamentari introdotti, sicuramente quello più rilevante è l'introduzione di un regolamento finanziario, che di fatto impone un tetto di spesa a tutta una serie di attività che il team svolge, in particolare in area chassis e in area aerodinamica. Questa è una nuova sfida, particolarmente impegnativa, soprattutto per un team di grandi dimensioni come l'UE Ferrari. L'affronteremo e la stiamo affrontando tutti insieme, lavorando su noi stessi e sui nostri processi per migliorarne l'efficienza e ridurre gli sprechi. Questo perché da quest'anno, più che negli anni passati, sarà un fattore critico di successo il modo in cui spendiamo i soldi. Anche il regolamento aerodinamico è stato modificato per aumentare la sostenibilità economica del nostro sport. Quindi da quest'anno avremo a disposizione meno ore di galleria e meno simulazioni CFD. Questo ha comportato, da una parte, una riduzione del nostro organico, dall'altra parte una spinta ancora più decisa a migliorare l'efficacia ed efficienza degli strumenti che utilizziamo. Insomma, quello che ci aspetta è un anno ricco di sfide. Dobbiamo riscattarci da una stagione assolutamente deludente come quella dell'anno scorso, adeguarci a lavorare con le limitazioni introdotte con il regolamento finanziario e sviluppare un progetto nuovo e completamente diverso dall'attuale che è la macchina che utilizzeremo nel 2022. Le sfide di certo non ci spaventano. Le affronteremo come sempre uniti, con i piedi per terra, consapevoli che dovremo lavorare tanto e bene per onorare al meglio il nome che portiamo. Grazie a tutti.